Casemagno, Rione Sampio, palazzi alti ottopiani e tutto attorno degrado, abbandono, incuria. Cumuli di rifiuti, mobili abbandonati, alberi che arrivano sin dentro agli appartamenti, montagne di aghi di pino. E poi quello che rimane di un campo da calcetto e i resti di quello che un tempo era un parco giochi per bambini, lo scempio. La rabbia e l'amarezza è tutta negli occhi e nelle parole di chi, in questo angolo di città dimenticato, ci vive da oltre 40 anni. Mille residenti che da anni chiedono interventi, chiedono pietà per uscire da una stato di abbandono che fa male. Abbandonati da circa 40 anni, 40 anni sono 40 anni, cioè come si vede qua il campetto di 45 anni fa, la piazzetta qua, il campetto nuovo che il comune ha fatto 5-6 anni fa, abbandonato, l'altro campetto che ha 35 anni e i bambini non c'hanno per giocare, per muoversi, non c'hanno niente, sempre abbandonato. Zona Magno abbandonata, abbandonata da anni, nella sporcizia, topi, scarafaggi, formiche, pieno di formiche, montoni e montoni di spazzature, erbacce che non vedi mai raccogliere, montonano, tutto ammontonato e stiamo nel degrado del degrado, del degrado del lato. E proprio accanto al complesso delle case Magno, quello che resta di una grande area pensata proprio per i residenti, con un salone per le feste, campi da calcetto e panchine. Adesso solo un cancello che sbarra l'ingresso, dopo un breve periodo di gestione affidata a privati e anche qui abbandono totale. Questa è una situazione che si porta avanti da 40 anni, buttarono a terra un muro e lasciarono le rovine, i cassonetti stanno nelle condizioni che stanno, le panchine, 25 panchine, le hanno messe i cittadini su questa piazza, il comune non ha messo una panchina, il comune non ha fatto mai niente, soltanto ad oggi, ha incominciato la campagna elettorale, si sta vedendo qualche poco tipulizzata di più, ma il tutto è abusivo e abbandonato. Il comune lo sa, sono abusibili la gestione degli alloggi comunali, sono abusivi e c'è un contenzioso in atto, l'abbiamo denunciato alla Corte dei Conti, questa è la dimostrazione che ormai abbiamo toccato il fondo con questa amministrazione comunale. Una situazione arrivata al limite della sopportazione, i residenti chiedono che qualcuno raccolga le grida di rabbia, intanto i giorni passano, uno uguale all'altro, tra rifiuti e pericoli per l'incolumità di chi si muove, tra marciapiedi dissestati e resti di muri cadenti. Tutti sperano in un cambiamento, in nuovi giorni, ma qui alle case Magno tutti i sogni muoiono all'alba.